ciao a tutti ragazzi oggi vi faccio vedere come si usa il multitasking nell'ipad in generale bisogna avere un ipad che abbia come sistema operativo ipados e non più ios perché questo sistema operativo è un misto tra ios e mac os ok sistema operativo del mac mentre ios è il sistema operativo degli iphone allora la procedura è molto molto semplice innanzitutto guarda se ho chiuso tutte le applicazioni ok bisogna per esempio aprire delle applicazioni che supportino il multitasking quindi per esempio one football poi bisogna praticamente tirare su leggermente lentamente e soprattutto non dovete spingere con le dita la barra questa qua sotto e cliccare su appunto un'applicazione per aprirla ok in questo caso io posso per esempio andare a vedere un mio video o in qualsiasi video potete vedere video a caso per esempio questo mettiamo un po avanti ok e poi continuare comunque ad usare ecco ad usare one football questo è il discorso ok allora per utilizzare questo tipo di applicazioni questo tipo di funzioni bisogna ottenere l'ipad in modo orizzontale e non verticale ok poi per chiudere il multitasking 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 basterebbe in realtà chiudere l'applicazione però voi ogni volta che dopo aprite un'altra applicazione se scorrete vi viene fuori sempre il multitasking affinché voi non cambiate appunto applica applicazione aperta con il multitasking questo è il discorso quindi vi resterà comunque la barra del multitasking se voi scorrete viene fuori ora voi potete anche spostarla dall'altra parte guardate c'è stato qualche problema tecnico ora il multitasking voi potete anche spostarlo dall'altra parte stavo dicendo ma non l'ho mai provato sinceramente mi è più comodo tenerlo di qua e e quindi niente comunque si può spostare allora un'altra cosa importante che non mi ricordo se vi ho detto ve lo dico adesso è che quando voi andate sull'applicazione messaggi cioè potete aprire l'applicazione galleria e poi dopo aprire come un aperto youtube l'applicazione messaggi e praticamente trascinare dall'applicazione galleria l'applicazione messaggi le foto ecco se voi dovete potete inviare un messaggio una foto con per messaggio potete fare in questo modo è una cosa che io non ho mai fatta non non proverò neanche penso questo è un metodo molto comodo per chi come me monta video da l'ipad e non dal telefono né tanto meno dal pc perché questo qui si può dire che il mio pc ok qua c'ho veramente tutto ho centinaia di applicazioni quindi è un metodo molto comodo perché nel frattempo che tu se l'applicazione ti sistema i video te li sta mettendo assieme se tu hai altri video da aggiungere nel frattempo te li puoi modificare è molto molto comodo come come funziona molto comoda niente se vi è piaciuto questo video mettete mi piace se non vi è piaciuto mettete non mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao un bacione a tutti e in questo caso buonanotte perché sono le 11.40 quindi ciao bacioni ciao ciao